Ciao a tutti, sono Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la missione Beyond e voglio augurarvi in bocca al lupo per la prossima partita e per questo campionato. Il rugby è uno sport fantastico, è uno sport che celebra l'amicizia e il lavoro di squadra, così come voi dovete lavorare tutti insieme per poter raggiungere la vostra meta, anche noi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dobbiamo lavorare, collaborare con un team sia di astronauti che di persone da terra da tutto il mondo per poter raggiungere il nostro obiettivo, la nostra meta che è l'esplorazione spaziale, la tecnologia, la scienza. Quindi considerate tutti i vari aspetti che uniscono i nostri due mondi, ancora voglio augurarvi in bocca al lupo per questo campionato, per questa partita e a presto. Ciao Luca, sappiamo che è la prima volta che sarà trasmessa una partita del mondiale di rugby su nello spazio e noi abbiamo la fortuna di avere un tifoso italiano lassù, quindi speriamo di regalarti anche a te delle bellissime emozioni e grazie tanto del tuo sostegno. I gironi che sono stati annunciati per il mondiale, questa partita forse era il nostro focus, abbiamo cuocito bene il mondiale con le prime due vittorie, anche se magari la prima un po' difficile, con un po' troppi errori, però abbiamo reagito molto bene contro il Canada e diciamo che siamo in uno stato positivo. Diciamo che questa partita qua è anche per noi, come lo è per gli spring box, la partita più importante dell'anno, potrebbe anche essere degli ultimi quattro anni. Abbiamo lavorato duro, abbiamo sudato tanto in tutti gli allenamenti per arrivare a questo punto qua. Una partita decisiva per noi e anche per loro, quindi sicuramente sarà una battaglia intensa in campo, tutti due le squadre non vogliono lasciare niente. Come ho detto prima, sarà veramente da vedere in campo cosa succederà, qualunque cosa può succedere in campo, noi saremo lì pronti per una grandissima sfida, porteremo la nostra intensità e poi speriamo di fare qualcosa di incredibile. Mi viene anche un po' la pelle d'oca a pensarci a questo. Però sì, sarebbe sicuramente il successo più grande per la nazionale e per la storia del rugby italiano. È qualcosa che magari dobbiamo non pensarci troppo, dobbiamo prendere come un'altra partita questa qui, pensare al nostro. Però sì, sicuramente se dovesse capitare sarebbe veramente una grandissima gioia per noi ma anche per tutta quante alla nazione. Il periodo contro gli Springboks è un mini derby, conosco un po' dei loro giocatori, ho giocato assieme e ho giocato anche in Sudafrica per due anni, quindi un po' conosco la loro mentalità, conosco come giocano. Sono giocatori molto fisici che avanzano e vanno avanti con l'intensità del gioco, con i loro avanti, quindi sicuramente sarà una sfida molto importante quella della mischia e del lavoro degli avanti, però sicuramente anche noi tre quarti dobbiamo aiutarli in questo. Sì, mi sento molto più maturo rispetto a un paio di anni fa, ho più esperienza, ho giocato abbastanza con la Benetton e anche in nazionale adesso, quindi sì, mi sento di avere magari un po' più di peso sulle mie spalle adesso, di dover portare la squadra avanti, però è qualcosa che mi piace e che mi dà confidenza anche, quindi sì, sicuramente sono un giocatore cambiato, però posso sempre migliorare, ci sono sempre aspetti in cui posso migliorare e continuo sempre a lavorarci. La partita contro gli Springboks era sicuramente molto speciale, anche se ovviamente ho giocato solo gli ultimi minuti. So che avevamo lavorato molto bene quella settimana, eravamo molto focalizzati sul nostro lavoro e come metti sotto pressione. Lo stiamo facendo anche adesso sicuramente, anche se la loro squadra è un po' cambiata, però anche la nostra alla fine. Siamo una squadra con molte più capacità, molto più potenziale adesso, di due o tre anni fa. Siamo sicuramente molto più pericolosi in attacco e anche in difesa siamo più aggressivi. L'Italia di due anni fa, l'Italia di adesso, sicuramente ci conosciamo molto di più come giocatori, ancora di più adesso dopo aver fatto tre mesi insieme. Sì, abbiamo più confidenza nel nostro gioco adesso, crediamo nella nostra capacità, abbiamo fatto delle belle partite negli ultimi due o tre anni, anche se a volte siamo stati un po' sfortunati di perdere qualche partita che potevamo vincere. Però sappiamo che se in giornata arriviamo con la giusta mentalità e le cose vanno come vogliamo che vadano, possiamo veramente mettere in difficoltà tutte quante le squadre. Sono le care, che ti stanno a care vicine, è importante. C'è mia mamma, mio papà e mia moglie che sono qua a vedere la partita. Quindi sicuramente mi darà una grande motivazione poter giocare bene anche per loro e lo sarà anche sicuramente per gli altri ragazzi della squadra.